Come in un incontro pronto per colpire Destro, sinistro, sinistro, destro Te schiaccio come Jordan Farcanestre Seconda gara interna e seconda vittoria Molto bene stasera contro una squadra ostica È abbastanza difficile superarla D'altra parte è accreditata la School Basket per arrivare al quinto posto, quinto e sesto posto del ranking dagli addetti ai lavori Quindi sono molto contento di questa prestazione che ci ha visto in pratica dominare la partita interamente sia dal primo che dall'ultimo quarto Una partita veramente importante con tanti tiri da tre sia che abbiamo realizzato sia che abbiamo subito Infatti il punteggio è stato altissimo ma in ogni caso abbiamo meritato molto bene La squadra ha reagito benissimo si è preparata alla partita con sacrificio e scrupolosità e poi devo dire una cosa devo veramente ringraziare l'operato degli arbitri che è stato veramente incomiabile hanno fischiato veramente bene e di tutto alla fine hanno fischiato 26 falli a noi 24 per il Messina ma ritengo che i fischi ci stavano tutti e tutti in ugual modo con lo stesso metro e veramente complimenti alla coppia per quello che ha saputo dare e per noi siamo contenti di questa seconda vittoria e ce la godiamo ora ci sarà la difficilissima trasferta di Piazza Armerina e dovremo cercare di prepararci nel migliore dei modi comunque mi ritengo soddisfatto di queste prime due gare come in un incontro pronto per golpire destro, sinistro, sinistro, destro te schiaccio come Jordan far canestre bello Grazie a tutti.